La situazione è in una fase in cui i numeri stanno leggermente ma costantemente migliorando. Noi siamo già da venerdì scorso, non l'ultimo venerdì, quello di dieci giorni fa, entrati nella zona arancione. Adesso dobbiamo consolidare e confermare i dati per due settimane, il 27 dovremo entrare nella zona arancione. Dall'ultimi dati sembra addirittura che la regione sia arrivata a livello giallo, però questo lo dovremo rivalutare nei prossimi giorni. Credo che sia la prova che se si mantengono certe regole di convivenza, di distanziamento, di uso della mascherina, si possa anche combattere senza eccessive rinunce. Ecco, questo sia il messaggio che bisogna cercare di far capire alla gente.